Finiamo questa puntata con il servizio e la voce di Marco Cereda che ci racconta come funziona la chiamata intelligente allestita da VM Bumotorrad per quanto riguarda gli eventuali incidenti o problemi in moto. Molto importante per quanto riguarda la sicurezza adesso che si avvicina l'estate. Ottenere aiuto sulla scena di un incidente o di una situazione di emergenza il più rapidamente possibile può salvare delle vite. Ciò vale specialmente per i motociclisti. Per questo motivo BMW Motorrad ha sviluppato un sistema opzionale di Intelligent Emergency Call pensato per portare aiuto sul luogo dell'incidente o dell'emergenza il più rapidamente possibile. Nel caso di un incidente un sistema di e-call integrato sul veicolo può fare la differenza tra la vita e la morte. L'e-call è stato utilizzato per la prima volta sulle auto BMW nel 1999 in Europa. Nel 2007 il BMW Group ha esteso questo sistema di sicurezza creando un'infrastruttura di call center intelligente ed internazionale. A partire dal 2018 l'e-call diventerà obbligatorio per tutte le nuove auto. Grazie agli effetti sinergici con BMW Automobile si prevede che il sistema sarà disponibile per la prima volta su una moto BMW nuova di fabbrica come opzione a partire dall'inizio del 2017. Nel caso di un'emergenza o di un incidente il sistema e-call intelligente che viene azionato automaticamente o manualmente invia i dati della posizione, per esempio le coordinate del sito dell'incidente motociclistico al call center BMW qualificato per avviare la prassi di soccorso. L'attuale posizione, nonché l'informazione per determinare la direzione di marcia, vengono trasmesse per semplificare la localizzazione del motociclista in posti difficili da individuare, come per esempio svincoli autostradali. L'e-call richiede una connessione alla rete telefonica mobile per innescare la sequenza dei soccorsi. Nell'opzione Intelligent Emergency Call, il collegamento viene stabilito mediante l'unità di comunicazione mobile installata sul mezzo. Per stabilire la connessione non è richiesto nessun provider specifico di telefonia mobile, ne basta uno qualsiasi attivo. Il servizio sarà disponibile in tutti i paesi europei. In questo caso, il rider non può mai cancellare l'emergenza di call. La chiamata intelligente di emergenza tiene conto di tre possibili scenari. Il primo è l'inoltro automatico in caso di grave caduta o collisione, dove la chiamata d'emergenza viene inoltrata automaticamente senza esitazione, mandando un messaggio ad un call center BMW o autorizzato. Il secondo scenario è l'inoltro automatico in caso di una caduta o collisione di leggera entità. In questo caso, la chiamata di emergenza viene inoltrata soltanto dopo 25 secondi prima di inviare un messaggio al call center BMW. Nel caso non fosse necessario ricevere aiuto dopo un incidente di poca importanza, la vittima motociclista ha la possibilità di annullare la chiamata d'emergenza premendo un pulsante. Infine, il terzo scenario è l'inoltro manuale con la pressione su un pulsante. In questo caso, la e-call viene inoltrata manualmente premendo il pulsante SOS sulla parte terminale del manubrio destro, per esempio chiamando aiuto per conto di altri utenti della strada se necessario. La chiamata di emergenza non viene inoltrata automaticamente in situazioni che non presentano emergenza, per esempio se la moto cade da ferma o in incidenti a bassa velocità senza il coinvolgimento di altri utenti della strada, se la moto incontra una buca sull'asfalto che la fa saltare o se deve superare qualche piccolo ostacolo su un percorso fuori strada. Così finiamo la puntata numero 16 del 2016 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima sempre in questa rete e quest'orario. Grazie e arrivederci.